Il Welcome Center di Bonagia è un luogo dove i prodotti agricoli, l'enogastronomia e il turismo si incontrano. Offriremo ai turisti che verranno in questo splendido mare, in questa splendida località della Tonnara di Bonagia, la possibilità di incontrare i prodotti della nostra cucina, tutti rigorosamente realizzati dalle nostre aziende agricole locali, in maniera da poter consentire questo binomio tra enogastronomia e turismo di cui sempre si parla e poco si fa perché si realizzi. Ci troviamo a Bonagia in uno dei borghi marinari più belli della nostra Sicilia, proprio qui abbiamo voluto creare questo evento Valderice e i suoi sapori, un evento che intende promuovere quelle che sono le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, lo abbiamo voluto fortemente insieme all'Associazione Cara Sicilia, al suo Presidente Toto Scalise che ringrazio in maniera particolare, la Proloco Città di Valderice e l'Associazione Circolo Subacquio Trapanese che ha collaborato anche per la riuscita di questo evento. Una o due giorni che si terrà qui a Bonagia e che ci auguriamo possa avere l'impatto che noi ci aspettavamo. Sicuramente tante le presenze che ci saranno in queste due serate e siamo orgogliosi di tutto ciò che siamo riusciti a fare. Promuovere le nostre eccellenze attraverso questi eventi è una prorogativa importante che la mia amministrazione sta portando avanti, intende portare avanti e lo vuole fare insieme a tutta la comunità valdericina, lo vuole fare insieme a Bonagia, insieme a tutti coloro che credono in questo luogo, in questa località, ma soprattutto che possa servire come appiglio turistico per fare tornare qui nella nostra Bonagia quanti più turisti possibili. Ringrazio veramente tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita di questo evento, ringrazio l'assessorato regionale all'agricoltura e tutti coloro che hanno voluto che questo evento si tenesse qui a Bonagia.